yoga per la salute movimenti direzionali quando rimani in posizione orizzontale per alcune ore durante il sonno i fluidi lubrificanti nelle tue articolazioni tendono a stagnare e non sono più in circolazione quindi quando ti svegli la prima cosa che il corpo ti chiede è di lubrificare le articolazioni i movimenti direzionali sono una maniera semplice per farlo inoltre esercitano anche i muscoli senza il rischio di infortuni nelle articolazioni c'è una concentrazione di noduli energetici attivandoli tutto il nostro sistema è pronto per l'azione ecco alcune indicazioni per stabilire le condizioni ottimali e incrementare notevolmente la tua recitività alle pratiche per favore assicurati che il cellulare sia modalità silenziosa o spento è consigliabile non iniziare la pratica a stomaco pieno subito dopo aver consumato un pasto per favore siediti con la schiena comodamente retta mani non incrociate con i palmi aperti queste indicazioni ti prepareranno a stare in uno stato di alta ricettività e ottenere i massimi benefici dalle pratiche queste pratiche sono molto sicure semplici e possono essere eseguite da chiunque le pratiche che impareremo possono essere esercitate da chiunque abbia un'età dai 7 anni in su se porti gli occhiali per favore rimuovili e tenili da parte durante le pratiche di yoga ora impareremo la prima parte del lupa yoga questa si chiama movimenti direzionali delle braccia faremo questa pratica in quattro diverse direzioni vedremo la dimostrazione della prima direzione osserva per favore si fa in questo modo mettiti in piedi con i piedi comodamente distanti e paralleli tra di loro occhi chiusi ispirando porto le mani esattamente di fronte alle spalle questa è la posizione iniziale la prima direzione laterale ispirando estendi le braccia lateralmente i polsi devono ruotare verso l'esterno una volta che le braccia sono completamente estese mentre inspiri riportale all'interno ora i polsi devono ruotare verso l'interno questo è un ciclo fallo tre volte non si tratta solamente di ruotare i polsi ma anche le mani devono aprirsi e chiudersi con la rotazione tutti i muscoli sono tesi come se stai spingendo qualcosa come un cacciavite crea la maggiore tensione possibile nelle braccia senza creare tensione nel resto del corpo quando le braccia si muovono verso l'esterno il movimento dei polsi è sempre una rotazione verso l'esterno mentre espiri quando le braccia tornano indietro il movimento dei polsi è sempre una rotazione verso l'interno mentre inspiri ora faremo tre cicli insieme per favore alzati in piedi assicurati di avere sufficiente spazio intorno a te mettiti in piedi con i piedi comodamente distanti e paralleli tra di loro occhi chiusi ispirando porta le mani di fronte alle spalle questa è la posizione iniziale ispirando estendi le braccia lateralmente i polsi devono ruotare verso l'esterno una volta che le braccia sono completamente estese mentre inspiri riportali all'interno ora i polsi devono ruotare verso l'interno questo è un ciclo lo rifaremo altre due volte secondo ciclo non si tratta solamente di ruotare i polsi ma anche le mani devono aprirsi e chiudersi con la rotazione crea la maggiore tensione possibile nelle braccia senza creare tensione nel resto del corpo terzo ciclo quando le braccia si muovono verso l'esterno il movimento dei polsi è sempre una rotazione verso l'esterno mentre espiri quando le braccia tornano indietro il movimento dei polsi è sempre una rotazione verso l'interno mentre inspiri quando hai terminato per favore rilassati e siediti comodamente ora vedremo delle correzioni generali da tenere a mente mentre esegui la pratica per chiarire quando estendi le braccia verso l'esterno la rotazione dei polsi è sempre verso l'esterno questa è la rotazione verso l'esterno quando riporti le braccia indietro la rotazione dei polsi è sempre verso l'interno questa è la rotazione verso l'interno non farlo velocemente con non curanza e poca tensione fallo lentamente creando la maggior tensione possibile nelle braccia senza estenderla al resto del corpo il resto del corpo deve essere sciolto e rilassato abbiamo visto come fare una delle direzioni della pratica ora vedremo come fare tutte e quattro le direzioni osserva per favore posizione iniziale mani esattamente davanti alle spalle occhi chiusi la prima direzione è laterale espirando estendi le braccia lateralmente ruotando i polsi verso l'esterno mentre inspiri riporta le braccia indietro ruotando i polsi verso l'interno nota come le braccia si muovono sempre ben allineate alle spalle questo è un ciclo devi farlo tre volte la seconda direzione in avanti espirando estendi le braccia in avanti i polsi devono ruotare verso l'esterno una volta che le braccia sono completamente estese mentre inspiri riporta le braccia indietro ora i polsi devono ruotare verso l'interno assicurati di creare più tensione possibile questo è un ciclo in avanti devi farlo tre volte la terza direzione verso l'alto espirando estendi le braccia verso l'alto i polsi devono ruotare verso l'esterno nuovamente mentre inspiri riporta giù le braccia ora i polsi devono ruotare verso l'interno questo è un ciclo devi farlo tre volte la quarta direzione verso il basso la quarta direzione verso il basso espirando estendi le braccia verso il basso i polsi devono ruotare verso l'esterno i polsi devono ruotare verso l'esterno mentre inspiri riporta sulle braccia ora i polsi devono ruotare verso l'interno questo è un ciclo devi farlo tre volte ora faremo tre cicli insieme in tutte e quattro le direzioni per favore alzati in piedi posizione iniziale piedi comodamente distanziati controlla che siano paralleli mani esattamente davanti alle spalle assicurati che la testa sia dritta occhi chiusi la prima direzione è laterale espirando estendi le braccia lateralmente ruotando i polsi verso l'esterno ispirando riporta le braccia indietro con la rotazione dei polsi verso l'interno secondo ciclo secondo ciclo ispirando estendi le braccia assicurati che le braccia si muovano allineate alle spalle ispirando riporta le indietro terzo ciclo è un'ispirazione completa mentre estendi le braccia ed un'ispirazione completa mentre le riporti indietro una volta ritornato alla posizione iniziale cambia la direzione la seconda direzione è in avanti ispirando ispirando estendi le braccia in avanti i polsi devono ruotare verso l'esterno una volta che le braccia sono completamente estese mentre inspiri riporta le braccia indietro ora i polsi devono ruotare verso l'interno secondo ciclo assicurati di creare la maggiore tensione possibile terzo ciclo le mani devono aprirsi e chiudersi mentre ruota i polsi quando sono aperte tutte e cinque le dita devono essere separate la terza direzione verso l'alto ispirando estendi le braccia verso l'alto i polsi devono ruotare verso l'esterno nuovamente mentre inspiri riporta giù le braccia ora i polsi devono ruotare verso l'interno secondo ciclo le mani devono muoversi esattamente in linea con le spalle terzo ciclo non farlo velocemente, fallo lentamente con tensione non farlo velocemente, fallo lentamente con tensione la quarta direzione verso il basso ispirando estendi le braccia verso il basso i polsi devono ruotare verso l'esterno mentre inspiri riporta sulle braccia ora i polsi devono ruotare verso l'interno secondo ciclo assicurati di non trattenere il respiro assicurati di non trattenere il respiro terzo ciclo le braccia devono muoversi esattamente in linea con le spalle e lungo i fianchi quando hai terminato puoi rilassare le braccia e sederti comodamente nello yoga vediamo il sistema umano come costituito da cinque fogli o cinque strati cinque strati di corpo nel sistema dello yoga la mente non esiste non esiste nulla ogni cosa viene vista come parte del corpo non esiste nulla non esiste nulla